Oggi ragazzi siamo su Liars Run 3D o una cosa del genere E tu che ci fai qui? Eh, allora ho scoppato No dai vieni facciamo il video insieme Va bene, però non ti devi arrabbiare eh No tranquillo Eh anche se ti batto, anche se io sono quello bravo nei videogiochi Tu non ti devi arrabbiare No tranquillo, iniziamo pure però inizierò io perché c'ero prima Allora C'eri prima dove? Eh qui seduta Oh mamma mia Robby ma bisogna avere un equilibrio allucinante Guarda qui Ma è l'equilibrio con l'omino? Sì Robby Allora Dani dobbiamo dare un nome a quell'omino Allora io lo chiamo Gennaro Perché è Gennaro? Oppure lo so Mariolino Mariolino L'omino piccolo Mariolino il tipino? Mariolino il tipino sì Ok ma sai cosa mi ricorda questo Dani? Cosa Robby? Tipo quei chewing gum lunghissimi tutti arrotolati che si vendono nelle scatolette che tu li apri e poi devi spezzarli anche se ogni volta io prendo li molti tutti quanti assieme È vero Robby non so se voi li avete mai mangiati scrivetelo qui nei commenti Non riesco a prenderli entrambi? No sei morto No 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 Dani allora questa cosa non ci era stata spiegata Puoi prendere solamente la caramella del colore che già hai Non puoi prendere anche quegli altri colori Eh sì Robby io l'avevo capito Eh io no scusami come facevi ad averlo capito? Allora mi raccomando prendi e guadagna tanti soldi perché poi dobbiamo comprarci delle cose A casa? No si possono comprare tante Stai tu non spoilerare nulla Eh come non me lo spoilerai io che ne so Dani Tu concentrati Hai detto tu di giocare a questo gioco No non io quindi io sto provando a giocare a quello che vuoi giocare tu Dani Così giochiamo assieme e siamo tutti contenti Vai bravissimo per 7 Lo so che sono bravissimo non c'è bisogno che me lo dici Dani perché io sono il king indiscusso il re Il re l'imperatore nei giochi E io sono la tua regina quindi ragazzi iscrivetevi al canale mi raccomando perché in questo gioco saremo bravissimi O almeno uno dei due lo sarà cioè io Io ecco Eh come dici scusami? Guarda Robby si possono comprare tanti personaggi Voglio il vecchio Perché vuoi il vecchio? Io voglio l'astronauta No 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 l'astronauta fa schifo voglio il vecchio Allora va bene allora guadagnerò tanti soldi per comprarti il vecchiarello Io voglio il vecchio il vecchio si chiama davvero Gennaro Perché? Vabbè Gennaro è un nome un po' da signore Sbagliato Da signore di una certa età È vero ragazzi e i vostri nonni come si chiamano? Allora guarda qui Robby che salto Hai fatto un mega saltone Dani Sì sì e poi vediamo quanto riesco a fare le sto prendendo tutte Robby eh per 7 Ma ragazzi voi a cosa state giocando in questo periodo? Quali sono i giochi run 3D oppure quelli che fate al telefono? Fatecelo sapere scrivendolo qui sotto nei commenti Noi Dani siamo arrivati adesso al livello 4 E iniziano a eserci delle difficoltà degli spuntoni Dani Sì e poi hai visto quanto va veloce Cioè guarda come corre Tu sai correre così veloce? Eh onestamente non ci ho mai provato ad andare su una cicca gigante Più grande di un palazzo Ma no questa è una rotella Robby No Dani questa è una cingomma e come ti ho detto di quelle che si vendono Sì ho capito Dovresti comprare almeno 40 pacchetti No dovevi fare il record per 8 Per il per 8 scusa ma fallo tu il per 8 E ora ti faccio vedere Che vuoi? Guarda qui Robby Se uno va piano va sano e va lontano Sì sì ho visto come sei da lontano che già stavi perdendo Allora guarda qui Attenta ai pali Che poi tu sei un piccolo chewing gum no? Quindi se fai sul palo ti attacchi al palo e non riesci più a ingrandirti ovviamente Ma guarda qui guarda qui quanto sono grande Ecco ecco ho visto proprio come sei grande che hai evitato alcuni chewing gum Però qua forse al per 8 ci arriviamo Robby Sì sì però saltassi e faresti anche di più di per 8 Un bel per 9 Perché questo è il livello 5 mi sono dimenticato dovevo farlo io il livello 5 Così ti facevo vedere Facciamo per 15 mila milioni Di miliardi Ragazzi e voi invece a che livello siete arrivati? Guarda che hai sbagliato avevi il verde e c'è andato con il blu No Dani no sei tu che hai sbagliato Ora sì prima no Dai Robby allora tu dovrai farlo mentre io ti conto una canzone Ma scusami perché devo essere torturato io adesso? Eh guarda che le mie canzoni sono bellissime Sì sì bellissimo un corno Dani Tu che sei un grande Robby Eh sì perché esiste anche un piccolo Robby E adesso vai che sei scarso Ma non sono scarso dipende dal livello Se il livello è fatto così Ma che cosa vuoi che ti dica io Al massimo potevo arrivare a per 8 Allora siamo al livello 7 Robby Sai cosa ti dico il livello 7? Adesso canto io Vediamo se tu riesci a giocare mentre canto io Vai vai E ciu pallapasa pallaparaparapapaa Visto? No assedda mi hai distratto Dovrei provarci Allora adesso sei tu che sei distratto Ti ho detto che è difficile mentre uno canta male Riuscire a giocare E allora proviamo a fare il gioco del silenzio E a sussurrare soltanto Attento No vabbè forse così non mi concentro proprio Allora parlerò soltanto io Quindi chi gioca parla Allora guardate qui ragazzi Quanto No no che fai? Che fai? Robby E volevo parlare io Quindi adesso gioco io e tu ti sei zitta Perché è brutto Quindi ti ho fatto perdere Così poi toccava a me E posso parlare Basta mi sono offesa Di che ti sei offesa Tu hai scelto No non puoi parlare Non puoi parlare zitta Hai scelto tu di fare così no? E quindi adesso ti becchi questa cosa Che no Non puoi parlare Non puoi comunicare Ok non puoi più parlare Cioè tu l'hai detto No 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 Ti ferma Ti ferma Non ti ha giardare Ok Adesso toccherà a te E tu potrai parlare Dani E così Sei inventato tu sto gioco qui Scemo Ah non hai battuto il mio record Comunque va bene Basta così Dobbiamo parlare entrambi Allora prima di andare avanti Guarda abbiamo la possibilità Di sbloccare il nonnino Va bene Allora voglio giocarci con questo nonnino Allora Sai perché è forte il nonnino? Eh perché? Hai mai visto il nonnino mangiare ciunga? No Che si toglie le dentiere E fa No Robin I vecchiarelli non possono mangiare le cicche E che ne sai tu? Sei vecchiarella? Guarda come va più lento Ah no poi acquista velocità Ehi rispondimi quando ti faccio le domande eh Cos'è che mi hai detto scusami Perché i vecchiarelli non mangiano le cicche? Eh perché si può levare la dentiera Dani stai tipo evitando apposta le cicche a terra? No no Robby E che 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 Ora fare un salto eh attenta Oh mamma mia Quanto viene un infarto Quanto viene un infarto Dani Mamma mia Ma Robby secondo te quanti per per ci sono? Eh per 5 Eh sì per 5 perché Hai evitato tutti i salti Dani Non devi evitare i salti Sono una cosa sola con te Eh fai questo tu vai Ok Livello 9 Livello 9 Ragazzi voi a che livello siete arrivati Se ce l'avete mai giocato? Uhuh Io sono arrivato a livello che non ti sopporto più Dani Io sono così simpatica Esatto Infatti sei andata sul verde quando avevi il blu Ora pure dal tonica sei diventata Allora Vediamo Guarda qui quante monete che sto prendendo Sì sì Io continui a cambiare il colore Ma se uno non vede bene i colori qua Proprio non riesce a fare niente Sì Dai ricoglio è verde Eh riprovaci Io sono buono Ti faccio anche riprovare A meno così farò di riprovare Sì però Non mi devi urlare nell'oreffio Altrimenti Eh non ti urlare Sei tu quella che parla d'alta voce Non io Dani No io ho la voce così dolce Ah Ecco la voce così dolce ma gli occhi proprio oggi non ci stanno Basta Basta non devo più parlare Non è difficile C'hai il viola vai sul viola C'hai il verde vai sul verde C'hai un azzurrino metallizzato del color seppia E vai su quello insomma Verde Blu Salto No ma non batto il record Lo so che non lo batti il record Perché lo vedevo Quando ti sei confuso con i colori Dani Adesso però tocca a me E guarda qui Qui E tu hai fatto per noi Io farò almeno per undici Vai vediamo un po' Ah però voglio che Che fai il tifo per me Di Vecchiarello Vecchiarello Vai Robby Tu sai che sei forte Vecchiarello 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 Vecchi per noi Ok però ci sono quei tratti Dove mi tolgono tutte quante le scicche Davvero molto brutti Vabbè Vabbè Comunque ragazzi Questo gioco sembra semplice Ma in realtà va velocissimo Questo vecchiarello Sì 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 Il vecchiarello Questo qua è del circo ovviamente Si Robby ma concentrati Perché adesso sei fatta veramente grande Sì 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 Sono grandissimo Dani Vai Qua salto tutto Salto tutto Dani Guarda qua Guarda qua Dani Guarda dove ti arrivo Non ci credo Guarda dove ti arrivo Dani Attenzione No attenzione Faccio pure l'otto E il dieci E il bonus No si è papato Che ti ho detto che facevo un più l'undici Bravo Robby Bravo Complimenti Grazie mille Il bonus faceva schifo comunque Cioè proprio Allora a comprare ci possiamo comprare Questa tipa qui Ma no che schifo la femmina Sì è tutta vestita di rosa Che schifo la femmina A parte che tu sei vestita col topolino Quindi non puoi parlare proprio Sì ma solitamente mi vesto di rosa Perché è il mio colore preferito Sì ma per Cioè Dani tu non puoi vestiti col topolino Deve essere tipo Minnie Perché? È perché Minnie è delle femmine Il topolino è dei maschi Ma questo pigiama mi piaceva tantissimo Anzi scrivete se vi piace anche a voi Ti piace il pigiama di Dani? Non dovevamo dire che ho un pigiama Dani Ora ci hanno scoperto che sta in pigiama Aiuto E voi non state Da quando è finita la scuola Dite la verità Anche voi state spesso in pigiama a casa Oppure uscite spesso con gli amici? Oh mamma mia Eh potete fare anche qui un bel bonus Invece hai deciso di Eh Robin Di scambiare il violetto con il rosa alla fine È che stavo pensando ad una cosa Eh sì una cosa la cacca rosa Però adesso Tocca a me con la femmina Vai Robin Ma non posso rimettere il vecchietto? No Robin La femminuccia è molto forte Mi ha fatto fare un per dieci Sì un per dieci Ma hai visto io prima cosa ho fatto? Ho fatto molto di più Dani Quello perché ti ho fatto io il tifo Eh grazie Quindi potresti rifare il tifo Almeno faccio di nuovo tanto Va bene Vai Robin Sei fortissimo E tu sei il più forte Anche se io sono più forte Ancora il più di te Ma che schifo di tifo Scusami eh Vabbè Robin Sei forte però Non ho proprio tanto Cioè voglio vedere Chi vince una gara Con questo tifo Nessuno Allora dobbiamo concentrarci Perché siamo quasi a livello 15 Sì livello 15 Quindi mi raccomando Lasciate tanti like Dai 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 Perché noi ci stiamo impegnando Il bonus Il bonus Ma che schifo sto bonus Almeno io sono arrivato Due volte Il bonus è tutto zero Robin 700 Possiamo comprare altro Eh L'amino barbino Secondo te perché ha un ciuffo così Eh perché si è svegliato ora Cioè quando si sveglia la mattina C'è il ciuffo così Ah dici che anche lui Sta in pigiama come me No E che c'è il pigiama col ciuffo E che ne so Si è appena svegliato Quindi ha il pigiama magari Il pigiamask Il pigiamask Allora guarda qui Allora guarda qui Io guardo che hai speso di nuovo Tutti quanti i nostri soldi Cioè appena sei marietta A 700 E ho comprato l'omino pigiamino qui Si Robby perché L'omino barbino Volevo avere tutti i personaggi Bisogna collezionarli Tutti Tutti Si ma poi ce ne manca ancora uno E non ti preoccupare Poi Sai che hai evitato Metà cicca praticamente Mettendoti di lato Si ma Quindi non arriverai Al bonus Neanche questa volta Mi dispiace Signorina Dani Riprovi la prossima volta Posso riprovare ti prego Riprova solo perché così Forse potresti arrivare al bonus Ma come stai parlando Robby Io parlo come mi piace Dani Ma Salve sono il Si Sei mai robotizzato Sempre un robot Robby Vuoi che facci robot No 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 Mi distrai Mi distrai Mi distrai Non fare bene il robot Non fare bene No 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 Robby Salve Io sono un robot Aiuto ragazzi Adesso sono il suo assistente Personale Prego Inserire il comando Secondo voi Sa fare bene la voce del robot Buonasera Io sono Robby Sono qui per Oh Guardate Guardate qui Ok Dani fai schifo Perché Perché Non mi dai un bacino No no Mi spiace Io adesso sono super concentrata Quindi Altro che bacio Ecco Lo sapevo Mi hai distratto Ho già detto Che sei scarsa Mi hai distratto No ragazzi Ce l'avete visto anche voi Dai dai Che non ce la fai Dai dai Che non ce la fai Allora Robby Adesso questo è il livello 15 Quindi vediamo Che cosa sai fare Eh cosa so fare Devi prenderle tutte Neanche una le devi evitare Ah ma 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 Concentrati Sì sì mi concentro Ma ma che sono un succo di pomodoro Che mi devo concentrare Dani Guarda che io so forte Perché se Vedi Vedi cosa che ho fatto la tua tecnica Tu li li saltavi sempre Che vuoi Mi hai fatto pure perfetto Quindi Vabbè Allora Vabbè cosa Dani Stai tranquillo Vediamo Stai tranquilla Che ci pensa qui il tuo Robby Che è un livello da schifo Guarda mi fa togliere sempre Mi cancella sempre tutto Da sotto i piedi Sì queste sono le scuse Ma guarda è vero Sanno di continuo le gomme qua Questo è verde Oh verde qua Verde là Verde su Verde giù Verde non ce n'è più Cioè cosa devo fare Ma è pieno di colori questo gioco Eh sì Ci mi unico con 5 Allora No qua faccio tipo per 7 Manco Manco per 7 Per 7 Per 7 Per 7 Ormai ho capito come funziona questo gioco Io sono proprio all'interno del gioco Allora Robby Proverò io L'ultima volta Se non fai bonus Ti dovo questa bottiglia in testa Ok Va bene Però non mi devi distrarre Non dire Non dire niente Facciamo meditazione Ti va Meditazione Anzi Ripeto il colore che sei così Ti aiuto Verde Verde Ancora verde Troppo viola 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 Giallo 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 Ti sto distraendo Giallo No 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 Vai Robby Mi stai concentrando Giallo Adesso è Rosa 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 Rosaria Viola 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 Quasi Quasi In ritardo Adesso Dani Adesso fai un bonus pazzesco Fai un bonus Ma che è sta roba Fai un bonus pazzesco Dani Oh cacchio Prendi tutti i salti Prendi tutti i salti Così Così li vedi ancora più lontano Dani Mi hai fatto il record dei record Grazie alla mia meditazione Guarda qui Prendi tutti i volete Vai Vai che arriviamo All'orlomino No Mamma mia Dani Non ci credo Ragazzi Cioè io l'ho detto Che ero fortissima In questo gioco Sì 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 A fortuna Quindi Se volete Un altro bonus Del genere Mi raccomando Iscrivetevi al canale E lasciate un bel like E ci vediamo domani In un prossimo video Ciao Sono Forte Alveglio Sono Robby